Poco più di 60.000 euro, questa è la cifra della vincita avvenuta al Goldbet di Via Antica Giardini a Giuliano. Una giocata fortunata proposta dalla stessa agenzia e accolta da molti clienti che hanno acquistato il tagliando. Sì, in realtà noi tutti i giorni prepariamo delle bollette e i ragazzi se le aprindono, chi di 2 euro, 5 euro, 6 euro, a seconda della propria volontà di credere nell'agenzia, nella bolletta che facciamo noi. Un sistema a 19 squadre, partita inglese, la partita del Real Madrid, fortunatamente è andata bene e ha prodotto una vincita di circa 62.000 euro, perché sono state fatte circa 8 combinazioni per un totale di 40 euro di giocata. Dobbiamo festeggiare, organizzeremo una bella festa appena rientrano un po' tutti, perché ora stanno i ragazzi in ferie, qualcuno fuori, facciamo una bella festa alla prima di campionato. Dopo il fortunato espluà, l'agenzia giuglianese ha deciso di creare una promozione per i propri clienti. Siamo partendo con una promozione per far conoscere la nostra agenzia, che è il Goldbet, che è una delle leader del settore delle scommesse. Partiamo con una promozione di 15 euro per ogni apertura conto nuova. C'è stato poi chi quel tagliando lo stava acquistando, ma per tempo non vi è riuscito. Lei non ha giocato la bolletta? No, purtroppo no, non ho avuto tempo per prenderla. Però ho saputo che tutti hanno preso la bolletta e mi è dispiaciuto tanto. Se la prendevo, a questo punto me ne andavo alle Maldive, me ne divertivo un po' di più. Cosa ti ha detto? Se ti ha detto qualcosa e se ti ha chiamato qualcuno dei vincitori. Grazie, grazie mille. E mi hanno chiesto di rifarle. Noi le rifaremo ogni giorno. Grazie mille. 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 Grazie a tutti